sceriffo mi hai fatto urlare così come hai fatto urlare tutti i tifosi del prato in questo gol non ci speravamo più anche se nel finale vi ho visto con l'atteggiamento giusto nonostante l'uomo in meno sì dopo dopo che siamo rimasti in dieci sapevamo che diventerà dura la partita però noi ci credevamo per essere sincero noi ci credevamo perché c'erano i compagni tutti che dicevo dai 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 che ce la facciamo ce la facciamo alla fine abbiamo trovato il gol di 3 a 2 senti una guerra si è visto più calci che calcio eh sì loro facevano troppi falli tantissimi tantissimi falli però alla fine ce l'abbiamo fatta a portarla la vittoria a casa perché era quello la cosa più importante sul calcio di rigore che hai pensato sul calcio di rigore per essere sincero io non ho visto bene però ci sta non ho visto bene però credo che ci sta noi l'importante è che alla fine l'abbiamo il portiere ha parato il rigore e abbiamo vinto quindi questa è la cosa più importante la partita di oggi ha evidenziato proprio la voglia no di lottare in una partita sporca difficile con atteggiamenti anche intimidatori che avete subito tu mobili soprattutto nei minuti iniziali nel calcio a volte basta qualcosa su quel rigore io mi ero sentito quasi sprofondato di lì è cambiata letteralmente la situazione poi col terzo gol è un ulteriore elemento di fiducia in più calcio a volte così dall'inferno al paradiso in un amen sì sì a volte è così però noi continuiamo a lottare a lottare quindi qualsiasi squadra che incontriamo proviamo a fare quello che abbiamo provato durante la settimana continuiamo a giocare come vuole il mister e alla fine otteniamo il risultato giusto